dopo le due belle vittorie nelle ultime due sfide casalinghe adesso una sfida importante contro caronno per vedere insomma se le prime cinque sono raggiungibili sì una sfida importante per vedere anche il nostro livello di crescita dall'andata abbiamo fatto un bel 3 a 2 vinto un bel 3 a 2 adesso loro sono cresciuti durante l'anno sono saliti in classifica c'è da vedere se riusciamo a replicare una bella prestazione per provare a portarvi via poi c'è tutto vicino per avvicinarci loro sono cresciuti è cresciuto però sicuramente anche il parella in cosa è cresciuto questa può essere la prova della maturità quella definitiva sì siamo cresciuti sotto molti aspetti siamo migliorati notevolmente in situazione di cambio palla abbiamo avuto qualche difetto nelle ultime settimane in alcune situazioni però può essere una prova di maturità anche questa tutti i sabati affrontiamo prove di maturità vista la giovane età della squadra